Apre domani il parcheggio gratuito davanti all'ospedale San Jacopo di Piestoia. Sono in tutto 146 posti ad accesso libero nello spazio adiacente a quello a pagamento. Viene così attuato quanto previsto in una clausola dell'accordo tra enti locali e privati per la costruzione del nuovo ospedale. Una previsione che risale addirittura al 2005 ma che è rimasta inattuata per anni. I lavori sono iniziati il 26 ottobre scorso dopo una serie di inderogabili tappe burocratiche. Il progetto dell'ASL ha infatti richiesto un passaggio in commissione urbanistica poiché l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Oltre a nulla osta della soprintendenza è stata necessaria anche un'aderoga al diritto di servitù da parte di SNAM perché parte dei lavori hanno interessato anche una porzione di terreno che si trova sopra la rete del gas gestita appunto dalla società nazionale Metanodotti. Da domani mattina sarà fruibile il nuovo parcheggio accanto a quello a pagamento al nostro ospedale San Jacopo. Finalmente è stata data attuazione a un accordo che fu preso già nel 2005 con la costruzione dell'ospedale ma al quale non era mai stato dato seguito e il sindaco Tomasi nel 2017 al suo insediamento aveva preso, diciamo si era impegnato a che fosse dato seguito a questa cosa e in ottobre, il 26 ottobre sono iniziati i lavori, finalmente sono terminati e quindi domani si apre e accanto al parcheggio a pagamento ci saranno 146 posti se non erro liberi, fruibilmente liberi da cittadini.